Renzi ha affermato che il Job Act è la cosa più di sinistra fatta negli ultimi 30 anni. Lo correggo, è la cosa più sinistra, nel senso di nefasta, fatta negli ultimi 30 anni. Nel 2015 lei, Ministro, commentando l'arrivo del contratto a fregature crescenti unito agli sgravi contributivi, annunciava un milione di posti di lavoro. È un numerone, disse, e a un anno di distanza eccoli i numerini reali. Nel primo trimestre di quest'anno, secondo l'Inps, il saldo tra attivazioni e cessazioni per i contratti pseudo-stabili è il 77% in meno rispetto all'anno scorso. Una volta finita la corsa dopata agli sgravi da parte delle aziende, è emersa la bolla occupazionale speculativa. 11 miliardi sprecati invece che investirli in politiche attive. All'aumentare sono solo i contratti precari, più 22% i contratti a tempo determinato, più 45% i voucher, alla faccia di Renzi che annunciava la fine della precarietà in Italia. Il 16 marzo di quest'anno Renzi scrive che la riforma del Job Act produce più posti di lavoro e più solidi. Chi parla di questa riforma come di un fallimento dovrebbe fare i conti con la realtà. Ebbene, Ministro, facciamo questi conti con la realtà. Qual è il rapporto tra spesa in sgravi contributivi e creazioni di veri posti di lavoro? E che tipo di lavoro? Qual è la qualità del lavoro che avete creato? Grazie. Il Ministro del Lavoro delle Politiche Sociali Giuliano Poletti ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente, grazie Onorevole. Mi corre l'obbligo per quanto riguarda alcune citazioni e affermazioni contenute nella interrogazione e fare alcune precisazioni. Prima di tutto tengo a precisare da un lato che il Decreto 23 luglio non ha abrogato l'articolo 18 che invece continua a trovare applicazione nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, già in essere il 7 marzo, ma ha introdotto solo per i nuovi assunti una nuova forma di tutela contro il licenziamento ingiustificato. Dall'altro lato evidenzio che dai dati sui rapporti di lavoro attivati nel 2016 pubblicati sono esclusi i lavoratori domestici e gli operai agricoli. Il calo di assunzione a tempo indeterminato nel primo trimestre del 2016 rispetto al medesimo periodo del 2015 è evidentemente legato all'anticipo di assunzioni e trasformazioni avvenuto a dicembre 2015 a fronte della prevista diminuzione della decontribuzione per il 2016. Ne è prova il fatto che il numero dei contratti attivati o trasformati a dicembre 2015 è stato pari a circa 485 mila, valore superiore di quasi tre volte alla media mensile delle assunzioni a tempo indeterminato avvenute nei primi 11 mesi del 2015, pari a poco meno di 200 mila. Va aggiunto che il valore di dicembre 2015 quasi cinque volte è quello che era stato registrato a dicembre 2014. Giovo a sottolineare che questo fatto ha consentito in buona sostanza a molte decine di migliaia di persone di accedere in anticipo ad un rapporto di lavoro stabile. Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato come risulta dalla lettura dei dati diffusi dall'Inps, la differenza tra le assunzioni 814 mila e le cessazioni 542 mila nel primo trimestre del 2016 pari a 272 mila. Va rilevato che di queste 542 mila cessazioni, 80 mila sono per trasformazioni contratto a tempo indeterminato. Con riguardo alle valutazioni dell'interrogante relativa al programma Garanzia Giovani, dico che non le condivido affatto. Pur con delle criticità differenziate in relazione alle diverse realtà regionali, il programma ha registrato più di un milione di adesioni da parte dei giovani, quasi 700 mila prese in carico da parte dei centri per l'impiego e circa 333 mila proposte tra quelle previste dal programma. Io credo che questi non siano numeri trascurabili e se posso dire oggi abbiamo firmato con l'azienda Flixbook un nuovo accordo per l'occupazione di altri 220 giovani. Quindi io credo che questo sia nel merito una sconfessione di un certo giudizio. Con specifico riferimento ai quesiti fondamentali e interroganti evidenzio che la spesa degli incentivi per la decontribuzione per le nuove assunzioni relativa al 2015 ammonta a 5,2 miliardi di euro e non a 6, quindi molto vicina a quella che è la previsione della legge di stabilità. Per quanto riguarda la spesa relativa al 2016 i dati ad oggi non sono disponibili, mi riservo naturalmente di fornire appena lo sapremo, ma possiamo ricordare che le previsioni di spesa per il 2016 ammontano a 4 miliardi 972 mila euro. Per quanto riguarda i contratti stabili attivati nel primo trimestre 2016 il loro numero ammonta 428 mila 584, comprese le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Grazie. Grazie Ministro. Facoltà di replicare il Deputato di Battista. Prego a due minuti. Ministro, innanzitutto dovete dire con chiarezza che i contratti a tutela crescenti non sono di fatto contratti a tempo indeterminato, perché il datore di lavoro può licenziare, per cui questa è la prima menzogna. Il dramma suo, Ministro del Lavoro e del Presidente Renzi, è che siete costretti quotidianamente ad aumentare la grandezza delle vostre menzogne future per oscurare i fallimenti economici passati. Il problema è i soldi, poi, li avete pure investiti, ce li avete pure messi, sempre soldi nostri, perché non è che gli incentivi vengono da chissà cosa, e certamente non dai tagli della costa della politica. Un milione e mezzo di euro sulla garanzia giovani. L'epoca, anzi, ha parlato di grande successo, un milione di adesioni. Perché non ha parlato di un milione di posti di lavoro? Un conto sono le adesioni, cioè i giovani che si iscrivono a un programma sperando di trovare un posto di lavoro. Un conto sono i pochissimi posti di tirocinio mal pagati che sono stati creati dal programma garanzia giovani. Sul Jobs Act, voi dovreste ammettere il fallimento, perché una volta finito il doping degli sgravi fiscali, sempre soldi nostri, sono crollate le assunzioni, i contratti a tempo indeterminato, tra virgolette, del 77%. Poi oggi lei, Ministro, non ha menzionato l'ennesimo crollo, tra l'altro il peggiore dal 2013 ad oggi, del prodotto industriale, del fatturato industriale. Secondo l'Istat, meno virgola 3,6% in meno. Noi abbiamo un'altra ricetta, abbiamo il reddito di cittadinanza. Voi invece avete, con i soldi nostri, drogato un mercato, di fatto neanche creando posti di lavoro e neanche creando la domanda. Infatti gli 80 euro che avete dato, 10 miliardi sono costati, non hanno rilanciato i consumi, perché l'Italia è in deflazione, Ministro. Ci sono giovani, 50 mila giovani che scappano dal Sud. Oggi un lavoratore di 50 anni che perde il lavoro, che scelta ha davanti. Scegliere tra una marca e un'altra di uno psicofarmaco, questo gli è rimasto al 50enne o al 60enne di trovare lavoro. 23 miliardi di euro avete speso e l'Italia è in deflazione. L'Italia è ferma. I tassi di disoccupazione al Sud sono drammatici. Concludo, Presidente, drammatici. Voi un unico contratto avete fatto a tempo indeterminato. Tra l'altro a tutele crescenti. A Verdini, corrotto per corruzione, tutele crescenti, più voti vi porta in Senato degli alfaniani, dei verdiniani, di volta a Gabbana e più li garantite le tutele crescenti, ovvero che non mettete mano veramente a legge anticorruzione e li garanterete la prescrizione. Vergognatevi. Si rivolga alla Presidenza e si rivolga con rispetto al Governo, per favore.